Mi ritrovo con una PS1 che gira, ma purtroppo rimane bloccata su questa schermata. Di PS1 non me ne mancano, queste sono tutte funzionanti. Queste qui invece sono tutte da riparare, però ovviamente adesso passiamo a questa qua che non funziona. Cosa bisogna fare per farla andare? Dove punte e caccevite c'è un trimmer, quindi è inutile aspettare perché tanto non funziona. Devo semplicemente ruotare questo qua in senso orario oppure in anti-orario, quindi adesso questo qua lo prendo, lo sposto poco poco poco, così, ma pochissimo, dovrebbe funzionare, a meno che non lo devo girare di un altro po'. Oppure magari tornare in senso anti-orario, ma proviamo così, dovrebbe andare. Ok. Sì, funziona. Se questo video vi è piaciuto, followatemi e iscrivetevi anche sul canale YouTube. Ciao!